Mancano ormai pochi giorni. Il corteo di protesta è previsto sabato 19 novembre per le vie principali di Roccadaspide, al fine di scongiurare la chiusura del presidio ospedaliero, punto di riferimento importante non solo per Roccadaspide ma anche per i territori limitrofi. Infatti il piano di risanamento aziendale dell'Asle Salerno prevede per l'ospedale la cancellazione di ben 50 posti letto e di tre reparti, ortopedia, cardiologia utica e chirurgia, lasciando attivi medicina generale, radiologie e laboratorio analisi. Da qui la necessità da parte dei cittadini e del comitato Salviamo l'ospedale di Roccadaspide e della Valle del Calore, di una mobilitazione popolare per far sentire la propria voce. Invitiamo tutti a partecipare al corteo del prossimo 19 novembre, spiega Giovanni Francione, presidente del comitato. Non solo i cittadini e sindacati ma anche enti e istituzioni, gli attori economici, le associazioni del territorio e le forze politiche per dire in massa un secco e definitivo no al depotenziamento dell'ospedale civile di Roccadaspide. Alla fine della manifestazione, conclude il presidente, annunceremo le prossime attività che il comitato intende mettere in campo. Non escludiamo la presenza di una nostra delegazione al primo consiglio regionale, utile per far sentire anche la nostra voce.